A fine mese scade la proroga tecnica della municipalizzata Geras, anche questa volta sembra inevitabile che si debba ulteriormente procrastinare. In una fase di fortissima tensione finanziaria del municipio non ci sono le condizioni per il nuovo contratto pluriennale, chiesto a gran voce non solo dal management ma anche dai sindacati. Secondo il sindaco Lucio Greco l'amministrazione sul punto ha le idee chiare, però sulla base della situazione finanziaria attraversata dall'ente bisognerà capire fino a dove ci si potrà spingere. E' questo il vero tema, secondo il primo cittadino. A breve dovrebbero tenersi incontri proprio sulla questione. Ci sarà un confronto con l'amministratore, con i sindacati, con i lavoratori. Greco precisa che nessuno vuole mettere a rischio la tenuta dell'azienda e dei dipendenti. Un contratto pluriennale consentirebbe di programmare a lunga scadenza ma con parametri assai rigidi imposti dalla crisi finanziaria del municipio nella strada tortuosa verso il piano di riequilibrio. L'obiettivo non è per nulla a portata di mano. Nelle casse della municipalizzata, già i minimi sul fronte del personale, mancano inoltre circa 260.000 euro dovuti da Palazzo di Città. Fino ad oggi ci sono state garanzie sulla stabilità dei conti ma gli equilibri sono piuttosto sottili e ogni passaggio può diventare decisivo. L'amministratore Pietro in Ferrera continua a monitorare. La situazione e le priorità vanno in direzione dei dipendenti della garanzia dei pagamenti. Un nuovo contratto invece potrebbe porre un perimetro differente anche rispetto allo scenario dei servizi da affidare alla società. Bisognerebbe inoltre incrementare il personale, anzitutto quello che si occupa delle attività di manutenzione. Secondo il sindaco inoltre le prossime saranno settimane delicate e verranno affrontati diversi i nodi. Al momento invece non sembra esserci l'impellenza di un cambio in corsa alla guida della multiservizi. In più occasioni si è ipotizzato un nome diverso da quello dell'ingegnere Pietro in Ferrera, per ora manager dell'azienda, pur conscio che eventuali esigenze politiche potrebbero generare variazioni al timone proprio della Ghelas.